Amici ma soprattutto nemici piangolieri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Poche novità, poche novità. La partita col Barcellona saltata per cacarella generale del Barcellona fa poca notizia, non dice nulla. Poche novità, vedo un calciomercato fermo, voci sempre su chi sei, tutto questo, quello, quell'altro, ma sono poche notizie, non c'è nulla. Non c'è nulla da dire, poche, pochissime novità. Quindi magari non aspettatevi un video o due video addirittura al giorno perché stacco un pochino anche perché essere ripetitivi non mi sta piacendo più. Magari posso anche prendere qualche tipo di, qualche altro argomento e questo magari ora poi con mio padre vediamo se riusciamo a gestire queste situazioni. Perché parlare di calcio per ora è essere sempre ripetitivi. La Juventus sul mercato è ferma, fin quando c'è Vlauvić che diciamo, speriamo che non venga venduto. Basta, allegri è lì, ce lo dobbiamo tenere. Quindi c'è poco da dire. Se poi vogliamo essere ripetitivi allora lo facciamo, lo siamo. Ma a me non mi piace, mi sono un pochino anche addirittura stancato. Ve lo dico con tanta sincerità, con tanta, con tanta, veramente, con tanta sincerità. Non c'è niente da dire. C'è caldo, molto caldo e anche questo influisce sulla situazione perché ripeto, non mi sta piacendo più, non mi sta piacendo più. Troppo, c'è troppa calma, troppa calma. L'entusiasmo è quello che è perché non si parla di, se ripeto, non posso sempre dire allegri out, allegri out, allegri out, allegri out, poi uno alla fine basta, si stacca. Mi sono stancato anche io. Ve lo dico sinceramente, non il mercato è fermo. Ripeto, se c'è qualche altro, magari qualche argomento di cronaca. Anche per essere sempre a contatto con voi. Quindi questo sì, per ora stacco. Stacco e quindi se non ci sono video e la novità, se non ci sono novità appunto, non ci sono video. Quindi io vi auguro una buona proseguimento di estate e vediamo. Se ci sono novità, io sono qua. Un abbraccio e danati per vincere, ma se ci incazzate, fino alla fine, forse io.